Continua nei corsi di formazione per i professionisti sul super bonus 110%, come quello che si è svolto nei giorni scorsi a San Leone, ad Agrigento, rivolto in particolare agli architetti. Il super bonus è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto legge rilancio del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni. Prevede la possibilità di effettuare lavori a costo zero per tutti i cittadini. Il super bonus si suddivide in due tipologie di interventi. Il super eco bonus agevole lavori di efficientamento energetico. Il super sisma bonus incentiva quelli di adeguamento antisismico. In un periodo segnato dalla crisi derivante dalla pandemia, si accende una luce in fondo a tunnel, grazie a strumenti importanti per far ripartire l'economia, come il recovery plan e la politica dei bonus, dichiara Rino Lamedola, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. La pandemia da Covid negli ultimi 500 giorni ha messo in ginocchio l'economia del Paese, coinvolgendo in pieno il settore delle costruzioni in tutto il territorio nazionale, e soprattutto in quei contesti dove già la crisi covava da tempo, come il nostro territorio agrigentino, dove dai dati censiti recentemente dalla Cassediva risulta che il settore delle costruzioni negli ultimi dieci anni ha perduto 4.300 posti di lavoro, 707 sono le imprese che hanno riuso i battenti e 23 milioni sono di perdita in materia di salari per gli addetti ai lavori. Oggi finalmente cominciamo a vedere l'uscita di questo tunnel, di una delle crisi sanitarie e socio-economiche più devastanti del dopoguerra, e questo grazie alla campagna dei vecini, grazie ai provvedimenti importanti per far ripartire l'economia europea come il recovery plan, grazie alle politiche degli incentivi fiscali che riteniamo fondamentali per richiamare nuovi investimenti nel settore delle costruzioni. Quello che si è svolto a San Leone è stato un aggiornamento professionale a cui hanno relazionato professionisti ed esperti di diversi settori che hanno approfondito le procedure da seguire dal punto di vista tecnico, amministrativo e fiscale per offrire al cittadino il miglior servizio possibile.